no bello ragazzi sono i ragazzi appuntato e bentornati in questo nuovo video della skywards siamo ritornati sulla skywards dopo che abbiamo perso malamente questa volta ragazzi tocca vincere perché da solo non ce la faccio a vincere comunque ragazzi per chi lo sta chiedendo sempre mi serve l'elkraft che vi lascio sempre in descrizione e incominciamo subito la prima partita di oggi quindi eccoci qui sulla prima partita di oggi e sta mappa è abbastanza carina eccolo eccolo l'ho preso l'ho preso no guarda che bucio di culo si è salvato eccolo eccolo qualcuno qui dove cazzo stanno c'è sta uno qua sotto vabbè ci diamo questo dov'hai chillato chillato perfetto qui ne abbiamo chillato uno c'è proprio i pantaloni quindi è buono e siamo i massi in tempo uno sta qua sotto sta a fare bip ragazzo sta a nulla ah ecco chi è qua chi è guarda il coglione guarda che stai a fa ma che stai a fa guarda guarda killa l'ho l'ho chillato l'ho chillato buono buono non ce la faccia prenderlo ecco sono morto vaffanculo via incomincia 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 subito the gaming what the fuck che ho detto non lo so comunque la maduia già ce l'abbiamo ma ci serve proprio una spada eh ma va manco una spada manorata cazzo sta a fa mamma mia abbiamo rischiato tantissimo porco duro non ci posso credere non ci posso credere il fail più storico del mondo ma vaffanculo io sono nato per i fail porco duro in questa partita ci rifammo col fail che abbiamo fatto assurdo proprio assurdo poi la cosa mi da fastidio qui incomincia le partite vabbè no no abbiamo pure tanta roba che cazzo ho sentito uno invece io oh vedete piastro ragazzo le sparase netta no dai no come cazzo fa bene subito i blocchi tutto quanto e viene l'isoletta mia io un percazzo ma va fa un cuore va dai 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 Vaffanculo Sto gioco de meta Quello c'ha la cosa C'ha le scarpette Dai 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 L'ammazzo l'ammazzo Sì sì, chillato L'ho chillato Ce l'aveva addirittura due Però va bene Va bene Quindi l'ho chillato Non c'ha un arco stanno Noi ci servono soprattutto queste E' uguale l'arco Quindi questa roba non ci serve L'importante era prendere le scarpette Ecco uno è morto Uno è morto Ci sono due lì Cosa? Ciao bello Oh C'è stato due E' là uno Tutti un diamantato Non vuoi stare a scherzare Cazzo Ciao bello Non mi va bene Quindi io sto qua Da 70 minuti Oh Oh in due conto uno Ma che è sta storia un po' Sì ciao Poi cortiscono No 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 Mazzalo Insieme Si stanno pesate botte Mazzalo E' la madonna questo Ma se te ha sfidato Sto a me Oddio Se so ammazzare a vicenda Se mi basti io Lui Dai se mi basti il tempo Eccolo Quindi Dove sta quello Tocca ammazzare quello Poi volto a puntare Non lo ammazzare Mi dispiace Se ti ammazzo Mi dispiace Mi dispiace Eccolo Eccolo Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto La prima partita La prima partita che vinciamo Dove sta Mi ha capito Ovunque abbiamo vinto Mamma mia che vittoria Sto registriando Sì sì Sto registriando E spero Spero il video vi sia piaciuto Se vi piacere un bel like Commentare qui sotto Iscrivervi al canale L'importante abbiamo vinto Qui lasciate un like Un commento E' bella E' bella